Siamo qua oggi a parlare del CAS, delle novità che sono arrivate negli ultimi giorni. Come sapete ci sono stati alcuni articoli del Sindaco e della Giunta dove si diceva che c'è un'ordinanza nazionale che di fatto ha cambiato un po' i parametri in gioco. Questo invece non è vero. Quello che è arrivato dalla protezione civile è stata semplicemente un'interpretazione della legge. L'interpretazione va da sé, è una cosa che fa riferimento a delle leggi già presenti da prima. Qual è il problema? Il problema è che dal 15 gennaio è passata una grossa rimodulazione del CAS, sono cambiate molte cose. E questo cambiamento che è stato sottovalutato dal Sindaco è un cambiamento che creerà alcune difficoltà. Faccio un esempio concreto per darvi l'idea. Le case che verranno assegnate saranno assegnate anche a persone che prima erano in affitto e che dovranno pagare di conseguenza l'affitto nel caso in cui non gli siano state rinnovate le condizioni dal proprietario della casa dove stavano. Che succede? Che queste persone andranno in una casa popolare sostanzialmente pronta scavalcando completamente tutta quella che era la graduatoria delle case popolari, cosa molto importante perché chi era in graduatoria aveva diritto prima di chi era semplicemente in affitto prima del sisma. E dovendo pagare una casa popolare, come sapete spesso quando si tratta di questi, chiamiamoli case armoni, poi raramente i canoni vengono saldati. A Torrentino abbiamo degli esempi, le case che ha preso il Comune poi hanno di queste difficoltà. Le case che il Comune affittò per dare a delle persone, poi purtroppo a volte trovano. Ci troviamo nella situazione in cui il Comune non è stato pagato. Ripeto, non è un malcomune in Italia, non è una peculiarità di Torrentino, però andarsene a cercare ci sembra piuttosto sbagliato. Una serie di errori dovuti sostanzialmente al colossale fallimento di pezzanesi per quanto riguarda le case. Tanto clamore per aver aperto un cantiere, per aver dato le case dentro un cantiere ancora attivo. Voglio vedere tutta questa gente che non ha voglia di andarci dai container, viene sfacciata per gente che vuole approfittarsi. Ma andreste voi a vivere in un cantiere con le ruspe, la terra, la gente che lavora dentro, dappertutto? Non è così automatico volerci andare. Facciamo vedere le grandi inaugurazioni, popolate da tutti i grandi personaggi locali, ma ci dimentichiamo che sono passati quattro anni e mezzo dal terremoto. In città come San Severino, parliamo sempre di queste casette che sembrano di cartone, a San Severino non mi sembrano per niente di cartone, mi sembra che la gente ci stia ormai da più di due anni in ottime condizioni. A Torrentino, a quattro anni e mezzo, ancora l'80% delle persone che avrebbero diritto stanno altrove. Stanno ai container, quindi giudicare questa strada, che peraltro io condivise all'inizio, continuo a dire che se si fosse svolta la questione in poco tempo la condividevo, ma a quattro anni e mezzo dal terremoto celebrare qualcosa che non sia proprio fallimento è sempre assolutamente fuori luogo.